E ben ritrovati qui nello Zoo 2.0 Oggi, come vi avevo scritto su Instagram, rispondo al quesito che vi avevo posto tempo fa nelle storie riguardante questo animale qui Molti di voi mi avete detto che si trattava di una femmina di faggiano dorato Si tratta di un faggiano dorato giovane maschio Ed è appunto la varietà lutino, quella col petto giallo Di... Ah! Cugno, ho detto! Il primo lo ebbi nel 2004 L'ho tenuto 5 anni, dal 2004 al 2009 Ed era quello a questo, preciso, spiccicato e della stessa età e colorazione Ogni tanto ritornano queste cose Questa è di mia produzione, è nato qui A proposito di faggiani dorati, non mi resta che farvi vedere una cosa fantastica Ed ecco ragazzi, ve lo presento Lui è il mio fantastico faggiano dorato di un anno di vita L'ho chiamato Trump per ovvie ragioni E oggi vi regalerà uno spettacolo danzante unico e particolare al mondo Un misto tra samba baciata e latino americano Che ventaglio facciale pazzesco Neanche il più grande artista riuscirebbe a creare un'opera del genere Che ventaglio! Che ventaglio! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cerca di ammaliarla con un gioco di pupille alquanto insolito. Grazie a tutti. 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 Lutino e lutina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi dei due si aggiudicherà il primato come miglior corteggiatore della voliera? E niente, come voleva si dimostrare se l'ha giudicato il grande Trump. Guardate, guardate che vi regalo una perla. Guardate che vi regalo una perla, guardate qua. Grazie a tutti.